Ciao lettori e lettrici di MamaStyle e benvenuti in un nuovo video! E' un nuovo video dedicato ad Halloween! Finalmente è arrivato questo momento, ovvero di preparare la zucca di Halloween! Ma come si fa? Eccoti un tutorial semplice, divertente e molto facile! Prendiamo la nostra zucca lavata e asciugata, poi con un pennerello o con una penna e disegniamo un cerchio attorno al picciolo esterno. Con un coltello incidiamo una piccola parte di cerchio disegnato. In questo modo riusciremo a creare un tappo che potrà essere incastrato alla perfezione. Delicatamente eseguiamo questi tagli fino a quando tutta la calotta non potrà essere sollevata. Con l'aiuto di un cucchiaio rimuoviamo i filamenti, procediamo così a svuotare la zucca raschiando la polpa. Una volta svuotata la nostra zucca, sempre con un pennerello, o con una penna disegniamo gli occhi, la bocca e il naso, scegliendo il carattere futuro della nostra zucca. E con un coltello quindi iniziamo a tracciare tutta la forma disegnata. Iniziamo a tracciare tutta la calotta. Ed ecco che la nostra zucca è pronta! Adesso non ci resta che inserire all'interno delle luci, tin light e buon Halloween!